Il Parlamento non basta, la procura, avete visto il PM Rossi che a un certo punto quando è stato chiamato dal CSM chiedendogli ma scusi ma lei conosce la famiglia Boschi, gli ha risposto no, non conosco neanche la composizione, il 19 vogliono archivare il caso, il CSM vuole archivare il caso il 20 si ricorda il PM Rossi, forse ho fatto un'indagine e forse li conoscevo, quindi vogliono riaprire di nuovo il caso, questo per dire cosa? Non basta più, nel Parlamento, nella legge, servono i cittadini perché il Parlamento ha paura dei cittadini, ha paura di vedermi tanti in piazza e ha paura soprattutto purtroppo di perdere i voti perché loro basano la loro vita politica solo ed esclusivamente sul voto quindi oltre a decidere chi votare scendiamo in piazza e scendiamo con questi 130.000 risparmiatori che non devono essere lasciati soli perché sono italiani come noi mi raccomando, uniti